Ciao a tutti unicorni, questo video sto facendo a caso perché mi sto per mettere una tarantola addosso quindi ho detto non posso non fare un video dove testimonio ciò che sto facendo aspetta per aprirla, aspetta perché posso morire non posso non fare un video dove faccio vedere ciò che sto facendo perché poi se muoio almeno muoio diretta e lo vedete capito perché è una tarantola vera e io non sono aracnofobico ma vicino quasi perché i ragnetti piccoli ok ci sta è paura ma questa è enorme prima di prenderla facciamo vedere là dentro ma questa è la tarantola cioè non so se ma non ha è lei cioè un ragnetto capite cosa è lei non è un ragnetto cioè quando la mano mia è pelosa, ha i dentini, c'è cattia capite non so se capite comunque niente iniziamo proviamo no amo vai aspetta non c'è paura mamma mia oh mio dio oh mio dio aspetta non so per morire amore non ce la faccio ma non devi dire niente in particolare che so per morire sì questo devo dire amore però come l'ha lei scusami cioè in pratica lei scappa perché senti rumori e sente le mie urla e cosa posso fare non posso stare in silenzio fai vedere quello che sta succedendo oh mio dio santa gravina oh io non posso non posso mai come cazzo ve lo faccio a mettere sul braccio che appena si avvicina mi sento male ti giuro amore è col 118 pronto perché sento che posso morire senti solo un tipo di solitudine va sul mio braccio mi morde morde istantanea no devi essere calmo come ho fatto io no amore non riesco io so che urlo so urlo mi fa qualcosa non devi muovere cioè devi essere calmo allora senti un piccolo così no amore però dai ti senti un attacco di panico basta io sono un maschio vieni non ti preoccupare dai mamma mia amore ti prego oh mio dio non vi posso far sentire il mio cuore in questo momento ma sta esplodendo cioè io lo sento qua arriva qua il mio battito vieni amo amo non ti devi preoccupare me la prendi subito mi da un bicchiere amo non fa niente ti rendi conto che non fa niente l'ho dito no la vedo troppo veloce allora il problema è che tu me la stai facendo mettere paura io la so ce l'ho mettere paura non ho io paura di lei non ti devi preoccupare perché è brava semplicemente non devi farla spaventare ok non è un mostro peloso sei pronto? faccio toccare le trampette prendi lo tirò amo prendila amo prendila amo prendila amo prendila mamma mia oddio santo oddio mi sento ron weasley in harry potter nessuna taranto è stata maltrattata in questo momento oddio io si sono stato maltrattato è stato maltrattato con vincenzo basta guarda come trema no mamma mi sto sentendo ma stai tremando io non lo so veramente chi cazzo me la sta facendo pare oh mio dio oh mio dio non avevi paura no stavo andando avvicina il bravo mostrala 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 quanto è bella mostrala ma la passa volendo ma la passa volendo è mori oh mio dio oh mio dio sceli 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 ma che scherzo che cazzo era che cos'era ma non lo so questa è la fine di questo video non so cosa vi aspettavate io penso che vado dal 118 sono vivo quello importante addio ciao il mio fidanzato mi sta dicendo perchè non fai uuuu saluta sto con un attachicardia non ho più neanche le forze di respirare a culo tu Ciao